Ben trovati amici di GT Channel a una nuova puntata di Salotto GT, speciale economia, il nostro spazio settimanale di approfondimento sui temi dell'attualità, della finanza, delle professioni, dell'economia in generale. I nostri ospiti di questa puntata di oggi, dedicata appunto alle professioni, al ruolo delle professioni, sono Mauro Tornincasa, avvocato penalista alla mia sinistra, buongiorno, buongiorno avvocato, e alla mia destra il nostro ospite fisso, Vincenzo Procino, consulente finanziario. Ciao Enzo, un saluto ai telespettatori. Allora, dicevamo, il titolo della nostra puntata odierna, Professioni ed Economia. Naturalmente l'economia è fatta di uomini, è fatta di scenari, è fatta di imprenditori, è fatta di professionisti, che nelle loro diverse, naturalmente, attività, esperienze e competenze, sono un supporto sempre più fondamentale, soprattutto nell'economia odierna. È un periodo molto interessante, pieno di novità per numerose professioni, in particolare per quella degli avvocati, che sono oggetto, studio di una riforma in itinere, e per naturalmente i consulenti finanziari, che sono la strategia fondamentale, insieme agli aziendalisti, per la crescita e lo sviluppo delle imprese. E quindi abbiamo pensato che era molto utile dedicare uno spazio, una puntata, proprio a come stanno evolvendo queste due professioni, a come sta cambiando l'accesso, anche dal punto di vista formale, a queste professioni, e poi a come sostanzialmente sta evolvendo un po' la figura del professionista, avvocato, penalista in particolare, e del consulente finanziario. Allora, io partirei proprio dall'avvocato Mauro Tornincasa, che, appunto, dicevo, è un avvocato penalista, e per l'ordine degli avvocati di Napoli, anche nella Commissione 231, che ha naturalmente molte, molte implicazioni con il tema, diciamo, dell'economia. Allora, avvocato, ti chiedo, innanzitutto partiamo, ecco, proprio dallo scenario, cioè com'è cambiato in questi anni il ruolo dell'avvocato penalista e com'è cambiato anche un po' l'accesso alla professione? Buongiorno, il tema è un tema particolarmente caldo, dicevi prima che è un momento per gli avvocati di riforma, nel senso che con l'intervento della recente appunto riforma Cartabbia siamo tutti in un momento di grande confronto, non soltanto tra avvocati, ma tra avvocati, cancellieri, magistrati, polizia giudiziaria, perché è una riforma epocale che interessa ovviamente non tanto l'accesso alla professione o piuttosto l'organizzazione della professione, ma è una riforma che interessa il modo di fare la professione, e quindi nel modo più classico che è quello ovviamente per l'avvocato, in particolare il penalista, l'attività, intendiamoci, processuale. Però questa riforma è una riforma che in effetti segue un po' quelle che sono state le evoluzioni della professione, dell'avvocatura, in particolar modo del penalista, diciamo negli ultimi vent'anni, perché con l'introduzione delle disposizioni diciamo normative di prevenzione anche per quanto riguarda le aziende, prevenzioni dei rischi da reato, il ruolo dell'avvocato, dell'avvocato penalista, è diventato un ruolo che non è più quello possiamo immaginare relegato all'attività processuale, cioè nella maniera classica di intendere, no? E magari legata alle persone e non alle aziende, cioè c'è un peso dell'azienda nei rischi, nelle fatti specie, eccetera, sempre maggiore. Certo, proprio perché appunto adesso l'attenzione del legislatore è all'azienda anche come soggetto che ha in qualche modo delle responsabilità in ambito penale, quindi il ruolo del penalista non è più quello del penalista inteso come momento, diciamo, di intervento soltanto nella fase patologica quando si commettono dei reati, ma anche prima nell'attività di prevenzione, in quella che è per esempio, per intenderci, hai citato prima la commissione 231, non è un numero ma è una disposizione normativa che prevede appunto una responsabilità anche dell'azienda nell'ambito penale, si identifica come responsabilità amministrativa ma in realtà è una vera e propria responsabilità penale, quindi il ruolo dell'avvocato penalista come consulente dell'attività dell'azienda è un ruolo nuovo al quale noi teniamo moltissimo ed è quello proprio di affiancare come risorsa l'azienda per consentirgli di individuare dei rischi connessi all'attività che non sono più solo quei rischi classici, immaginiamo quelli legati a una responsabilità civile o piuttosto a una responsabilità di diverso tipo, ma anche a una responsabilità penale, quindi illuminare anche determinati profili aziendali per capire quali possono essere dei rischi eventualmente connessi dal punto di vista penale all'attività dell'azienda. Perdonami una cosa, Salotto GT è una trasmissione destinata a un pubblico molto molto generalista, ma anche di esperti, quindi il fine divulgativo è sempre prezioso, anzi ti ringrazio anche di aver chiarito, di ero quel numeretto 231, cosa c'è. Tu dicevi giustamente lo scenario degli ultimi 20 anni nella regolamentazione, ma anche nel peso un po' della distribuzione delle categorie nell'economia, ha fatto sì che appunto ci fosse non solo l'intervento nella fase patologica, ma anche nella prevenzione, che l'azienda diventa stessa stessa un soggetto sempre più interessato da queste cose e soprattutto che c'è un discorso anche di avvocato d'affari che nelle varie specializzazioni, civile, penale, d'affari, eccetera, vede sempre più presente l'economia nella regolamentazione, quindi anche il peso dell'economia nelle vostre attività è cresciuto molto. Sì, sicuramente, noi soprattutto come penalisti stiamo giocando una partita importante, che è quella appunto di comprendere effettivamente quelle che possono essere delle nuove prospettive professionali, non solo per quanto riguarda noi nell'ambito dell'economia, ma anche per quanto riguarda appunto il sostegno alle imprese, quindi noi dobbiamo necessariamente, quello che ovviamente su cui noi ci confrontiamo spesso tra colleghi avvocati, penalisti in particolare, è proprio questo nuovo ambito, questo nuovo scenario che si sta aprendo per la professione, per gli avvocati e in particolar modo per i penalisti. L'economia non è soltanto, per quanto riguarda ovviamente l'attività dell'azienda, credo, c'è qui il consulente che potrà sicuramente confermarlo, non è soltanto diciamo una scelta legata al tipo di attività da fare, al marketing e quant'altro, ma è anche un risparmio, quindi delle risorse che devono essere investite per un risparmio di spesa. Allora se si riesce a comprendere, ed è questo il nostro ruolo, che una risorsa, quale quella di un consulente, che possa essere, parlo di me, ma ovviamente il penalista, che consente all'azienda di investire, nel senso di risparmiare anche nel lungo termine, evitando quelle che possono essere appunto delle sanzioni eventualmente applicate in ambito penale all'azienda, ovviamente questo è uno scenario che va in qualche modo, come dire, coltivato da questo punto di vista, quindi bisogna prima noi come avvocati e poi farlo comprendere alle aziende che siamo una risorsa, lo dico anche spesso ai giovani avvocati, ai giovani collaboratori, di iniziare a comprendere che effettivamente l'economia è una risorsa, ma è una risorsa per tutti e anche per noi professionisti. Pensavo a quando uno dice, se no poi andiamo in mano all'avvocato, andarci un attimo prima, in maniera tale, consente. E questo è il passaggio. Un'ultima cosa sulla riforma, un tuo parere, diciamo, sulla riforma, su quello di cui si sta parlando, su quello che potrebbe essere, su quello che dovrebbe essere, diciamo. Allora, se parliamo di riforma delle professioni e la riforma dell'avvocatura, oggi per l'accesso, visto che si è parlato anche di accesso alla professione, oggi l'accesso alla professione di avvocato ovviamente passa dall'esame che negli ultimi due anni ha subito una modifica legata all'emergenza Covid, nel senso che fino a due anni fa l'accesso prevedeva una prova scritta su tre temi e una prova orale. Da due anni a questa parte, e mi auguro francamente che questo sia l'ultimo anno, anche perché credo non abbia più ragion d'essere, non c'è più la prima prova scritta che vedeva ovviamente impegnati tanti candidati in uno stesso posto, ma prevede il cosiddetto doppio orale rafforzato. Ora, è evidente che la valutazione, mi auguro, dicevo che sia l'ultimo anno, proprio perché ovviamente l'avvocato, in particolar modo il penalista, dell'oralità fa gran parte del suo lavoro. Però è vero anche che un dono che credo, almeno mi hanno insegnato da sempre, quando ho iniziato a fare questo mestiere, è il dono della sintesi, non solo nell'esposizione di un caso, quindi nel rapportarsi a un caso, ma anche nello scritto. Quindi credo che la valutazione dello scritto sia una valutazione assolutamente fondamentale, perché bisogna capire quali sono i passaggi da cogliere e illustrarli in poche righe sintetiche. Anche perché bisogna capire che dall'altro lato c'è un magistrato che come noi si annoia nel rileggere sempre le stesse cose, e quindi è fondamentale anche avere questa caratteristica. Forse nell'ottica di una riforma di accesso alla professione si potrebbe anche pensare di consentire ai giovani che vogliono fare questa professione di avere prima le idee chiare, perché il rischio che si ha spesso nella nostra professione è che finita, ottenuta la laurea in giurisprudenza, diciamo che faccio l'avvocato, come se fosse sostanzialmente un ripiego. Invece io credo che l'avvocato sia una professione di grandissimo prestigio, di grandissimo rilievo, vada rispettata e ovviamente vada coltivata. Vada coltivata si intende sin dal primo momento. La mia è stata una vocazione vera e propria per quanto riguarda l'avvocatura, ma in particolare per quanto riguarda il penalista. Io credo, non me ne vogliano i colleghi civilisti o amministrativisti, credo che l'idea romantica della professione di avvocato sia quella dell'aula di giustizia, della toga, della discussione, del confronto dialettico continuo, costante, dell'ansia che si respira nell'aula del tribunale. Trovarsi davanti a una questione che bisogna risolvere lì al momento è un'eccezione e quindi mi sono innamorato di questo. E forse questo mi consente quotidianamente di andare avanti, di formarmi, di informarmi e credo che sia questo l'aspetto fondamentale. Quindi se noi riusciamo a mettere i giovani nella condizione di avere le idee chiare da subito è evidente che tutto è più semplice. Magari consentendogli di partecipare prima ai dibattimenti, ai processi come ovviamente spettatori o prendere parte dell'attività degli studi legali. È vero che è una bella visione romantica ma bisogna anche come dire cercare di mantenere le cose belle del passato e della tradizione e sicuramente però come ultimo tema prima o poi della pausa pubblicitaria un qualche cosa che va sempre più verso la specializzazione cioè è necessario nell'attuale mercato del lavoro delle professioni ecco quanto può come dire convenire per seguire in maniera romantica sicuramente ma anche diciamo poi con possibilità di avere spazi di lavoro questa professione oggi 2023 Credo che in linea con quello che abbiamo appena detto sia fondamentale cioè le specializzazioni nel nostro nel nostro sistema per quanto riguarda gli avvocati tendenzialmente non esistono nel senso che non c'è una specializzazione in uno piuttosto che in un altro settore però è vero che di fatto si creano le specializzazioni e io quello che diciamo cerco sempre di riportare anche ai colleghi e in particolar modo ai giovani collaboratori io sembro giovane in realtà però sono 20 anni che faccio questa professione giovane con esperienza diciamo che nel 2003 ho iniziato ho messo piede per la prima volta nel tribunale quindi ho una certa esperienza e quello che chiedo sempre è proprio questo cioè cercate di ritagliarvi uno spazio attraverso ovviamente lo studio perché quello è fondamentale la continua formazione in maniera tale da crearvi all'interno dell'ordinamento all'interno del diritto penale all'interno del diritto civile una vostra come dire un vostro spazio professionale che vi consenta ovviamente di vincere quello che è il confronto con gli altri bene noi diamo spazio alla pubblicità ci ritroviamo tra qualche minuto sempre con professioni d'economia qui a Salotto GT speciale economia su GT Channel rieccoci studio seconda metà di questa nostra puntata dedicata alle professioni abbiamo ascoltato nella prima parte Mauro Torni in Casa avvocato penalista parliamo ora della consulenza finanziaria e quindi della professione l'altra diciamo colonna di supporto agli aziende diciamo prima con Mauro Torni in Casa è giusto che l'azienda sappia prima con l'avvocato come organizzarsi è giusto e sacrosanto io direi anche necessario molto spesso anche per reperire i mezzi finanziari sul mercato e per avere consigli sulle strategie di investimento avere a che fare con un bravo consulente finanziario e quindi è naturalmente questo uno dei temi fondamentali del nostro ciclo di Salotto GT allora Vincenzo Procino consulente finanziario è il nostro ospite fisso e in che modo è possibile ecco vedere come è cambiata la professione di consulente finanziario di consulente strategico dal punto di vista finanziario e come è cambiato anche l'accesso alla professione bene intanto la professione diciamo che più che è cambiata deve cambiare per motivo molto semplice i consulenti finanziari oggi hanno un ruolo sociale fondamentale cioè quello di apportare educazione finanziaria in un paese come il nostro che educazione finanziaria ne ha molto poca che cosa significa? Significa che l'utente medio è abituato ad andare in banca a essere chiamato dalla banca di riferimento perché ogni volta è un numero a cui bisogna vendere e proporre qualcosa e già questo è una distorsione rispetto a quello che è il ruolo del consulente il consulente dovrebbe essere una persona invece in grado di farsi carico di quelle che sono le esigenze della persona che ha di fronte che cosa significa? Significa che il primo vero step che noi dobbiamo fare è uno step comunicativo cioè dobbiamo imparare a comprendere in maniera più puntuale più profonda quelle che sono le esigenze delle persone che abbiamo di fronte facendo sostanzialmente quella che è un'indagine che non è un'indagine di natura diciamo obbligatoria quella legata al mondo della MIFID del profilo finanziario perché quello ti dà un'idea di massima di chi abbiamo di fronte dal punto di vista finanziario e delle conoscenze ma è un ulteriore step quello di andare a cercare di capire il perché quella persona ha quella problematica se l'ha compresa e accompagnarlo ad approfondire quei temi facciamo un esempio se noi oggi pensiamo al mondo della pensione cioè al periodo in cui andremo in pensione e facciamo due calcoli sappiamo che andremo in pensione con un 40% in meno di quello che è il reddito che percepiamo durante l'età dal lavoro già ci stai dicendo che andiamo in pensione e già questo è un aspetto positivo quindi grazie a oggi sembra di sì se quella problematica il consulente finanziario non se ne fa carico quindi non la svisce non approfondisce col cliente quindi non impara a fare le domande giuste per comprendere quali sono le sue aspettative probabilmente quello è un tema che non verrà mai affrontato dal cliente e sostanzialmente quel cliente si troverà poi arrivato all'età della pensione con un danno il tema è semplice io devo essere in grado di comunicare e di comprendere perché nel momento in cui io comunico e non comprendo quello di cui tu hai bisogno non sto facendo un danno a me consulente ma sto facendo un danno a te cliente quindi quando incontro clienti nuovi passiamo la gran parte del tempo a fare una chiacchierata conoscitiva e spesso mi dicono non mi è mai capitato di ricevere questo tipo di domande cioè che aspettativa hai che cosa ti immagini per il futuro cose che sembrano banali ma vanno nel profondo di quello che è quella storia nel caso delle aziende ancora di più perché il consulente ha quella capacità di incontrare gli imprenditori e poi deve fare da trade union con altri ambiti noi non possiamo fare tutto ma ci possiamo contornare di specialisti che ci aiutano a supportare l'azienda perché l'imprenditore ha bisogno di un riferimento ha bisogno della persona a cui affidarsi e piano piano la nostra evoluzione sarà quella di contornarci di professionisti in vari ambiti di specialisti Vincenzo tu dicevi giustamente è un segno dell'evoluzione dei tempi ma è anche un segno della necessaria non voglio dire selezione del consulente però è importante in qualche modo evidenziare i punti di forza della competenza perché altrimenti anche il tema dell'accesso alla professione se diventa tra virgolette troppo facile poi appunto fa sì che ci siano persone che non fanno quelle domande giuste che tu invece dicevi vanno fatte quindi in che modo è possibile trovare un mix virtuoso di accesso selezione nei criteri e allo stesso tempo poi un vantaggio reciproco di competenza del consulente e di percezione del cliente ecco questo è è un tema spinoso perché il mondo dell'ascolto e della comunicazione è uno dei punti di formazione che molti di noi non la maggior parte di noi non approfondisce in maniera corretta io faccio ogni anno tanta formazione proprio in questa direzione che cosa significa quando un cliente incontra un consulente si incomincia a sentire un numero ok non una persona un numero vuol dire che quel consulente sta sbagliando qualcosa quando un cliente a cui viene fatta la miglior proposta per lui non la prende in considerazione non è il cliente che non ha capito che non capisce siamo noi che abbiamo commesso un errore o non abbiamo compreso quello che gli serve o non gli abbiamo dato gli strumenti per comprendere quell'argomento che cosa può fare la professione la professione si accede attraverso un esame all'albo dei consulenti finanziari che in questo momento è principalmente concentrato su tutta quella che è la parte finanziaria e legislativa del ruolo del consulente si potrebbe e si dovrebbe fare uno step successivo che è quello di inserire tutto quello che è il mondo della comunicazione dell'ascolto della comprensione della persona che abbiamo di fronte ed è un'evoluzione che noi per forza di cose dobbiamo fare perché se non andiamo in quella direzione rischiamo di uscire fuori come tutti quei dipendenti bancari non me ne vogliono che lavorano secondo quelle che sono le logiche di budget di vendita di prodotto il prodotto io lo dico sempre ai colleghi con cui lavoro di numero e non anche umane psicologiche comprensione il prodotto costituisce uno strumento per ottenere un risultato quel risultato è il centro di tutta la nostra professione che cosa vuoi ottenere che cosa vuoi proteggere vuoi proteggere la tua famiglia i tuoi figli vuoi proteggere la tua azienda abbiamo visto prima la prevenzione ok noi alle aziende possiamo dare un supporto enorme perché possiamo andare a individuare dei punti di criticità gli possiamo consigliare per quanto concerne magari il passaggio di padre in figlio una struttura societaria differente quello è un tema che in Italia non viene mai affrontato noi siamo indietro anni luce in Europa solo il 17% degli imprenditori programma il passaggio generazionale per tempo e spesso e volentieri cominciano quando hanno già circa 65-70 anni quelle è già tardi i figli sono già grandi non avranno fatto un percorso magari adeguato per continuare l'attività dell'impresa l'imprenditore si deve staccare dall'idea che quella creatura deve continuare per forza all'interno della sua famiglia e in questo noi dobbiamo essere bravi a avere quella capacità di dialettica e di dialogo con l'imprenditore per fargli comprendere che quello è un tema su cui lavorare anche perché negli ultimi 20-30 anni che poi più o meno è il passaggio generazionale l'età che divide padri e figli come dire i cambiamenti sono stati notevoli nello scenario eccetera e poi allo stesso tempo tu dicevi giustamente molti vedono l'azienda come un figlio essa stessa e quindi invece ci vuole una giusta dose di distacco magari proprio nella managerializzazione e quindi nella crescita virtuosa con il vostro aiuto in questo noi dobbiamo avere quella sensibilità di comprendere che in quel momento l'imprenditore ha un aspetto emotivo che ha il sopravvento su tutto perché è qualcosa su cui ha sacrificato la vita su cui ha lavorato costantemente ha portato avanti un lavoro per cui è una creatura che gli è nata gli è cresciuta insieme e il consulente non deve avere un ruolo asettico solo di natura tecnica cioè non può comunicare in maniera asettica e tecnica perché non va a intercettare quello che può essere una problematica cioè la parte emotiva di quella situazione se noi non siamo in grado di fare questo salto di qualità stiamo facendo un pessimo lavoro nei confronti dell'interlocutore che abbiamo di fronte altro aspetto importante è quello di capire che sempre più dobbiamo stringere partnership con altre professioni perché siccome noi spesso e volentieri siamo catalizzatori riusciamo a incontrare a intercettare diverse esigenze non possiamo soddisfarle tutte perché non è immagina prima parlavamo di specializzazione io posso essere più ferrato su alcune tematiche e alcune tematiche sono magari meno ferrato le posso studiare ma portare all'imprenditore uno specialista che conosca quelle tematiche a fondo gli dà un valore aggiunto però è bello vedere come dicevi prima il supporto alle aziende il lato finanziario il lato legislativo il lato della comunicazione possono stare tranquilli le aziende abbiamo ancora due minuti flash proprio quanto questi ultimi tre anni complicati di pandemia di guerra di caro materie prime energie eccetera hanno inciso sulle cose sulle quali voi siete stati chiamati ad aiutare le aziende a te dal punto di vista finanziario e a Mauro torni in casa dal punto di vista proprio legislativo di regolamentazioni beh noi durante la pandemia principalmente durante la pandemia è venuto fuori in maniera chiara il ruolo del consulente finanziario che è una figura slegata dalla mandataria cioè è un autonomo è un professionista che lavora per se stesso ha una propria azienda poi si serve di servizi di una mandataria quindi di una banca e qual è stata la differenza? Le banche tradizionali hanno chiuso perché avevano problemi per l'accesso non ricevevano i clienti spesso non rispondevano al telefono questo a detta di molti clienti che mi hanno contattato e quindi i clienti si sono sentiti totalmente smarriti ok e non hanno avuto quel supporto noi abbiamo avuto la forza la capacità di incontrare anche a distanza i nostri clienti tutti i giorni ti faccio un esempio è scoppiata la guerra io per poter dare una chiave di lettura a tutti nel giro di due giorni ho preparato un report una cosa su quello che stava succedendo sulle ipotesi sullo scenario l'ho mandato a tutti i miei clienti in modo da poi in seguito poter avere con loro un'interlocuzione e capire quali sono le preoccupazioni quali sono quelle reali di che cosa ci dobbiamo far carico quindi dagli quel supporto che i canali tradizionali non danno il canale tradizionale chiude sabato e domenica non esiste se un cliente ha una preoccupazione e magari non ci sta dormendo la notte con noi alza il telefono e dice guarda ho questa problematica e la maggior parte dei professionisti sono disponibili a quantomeno a fare una chiacchiera e tranquillizzarlo se c'è da tranquillizzarlo quindi fargli stare sereno quindi quando dico noi abbiamo un ruolo sociale è proprio questo quello di accompagnarli e soprattutto dobbiamo essere chiari nel modo di parlare con loro cioè noi non abbiamo non parliamo di massimi sistemi l'economia sono quattro operazioni di matematica e quindi dobbiamo essere in grado di rendere semplici i concetti che sembrano astratti e complessi spesso io dico c'è la volontà di qualcuno di farli sembrare troppo complessi una battuta finale anche con l'avvocato Mauro torni in casa su questi ultimi due tre anni come hanno inciso diciamo sulla professione io non vorrei parlare ovviamente degli aspetti negativi di quello che hanno diciamo determinato guardiamo diciamo confiducia ottima e allora l'unico credo vantaggio che questo periodo di emergenza ha portato per la professione in particolare per il penalista credo sia evidentemente la digitalizzazione del processo e del procedimento perché viva Dio purtroppo l'unico aspetto positivo è stato questo cioè noi vivevamo fino a due anni fa una situazione nella quale nemmeno la PEC il deposito a mezzo PEC era accettato oggi invece grazie tra virgolette ovviamente alla pandemia riusciamo ad offrire diciamo più celere anche alle aziende attraverso il sistema della digitalizzazione e per un'azienda avere un avvocato più smart è sicuramente un vantaggio e oggi lo possiamo fare guardiamo questo aspetto cioè una consapevolezza complessiva maggiore allora io ringrazio moltissimo per questa bella puntata come dire meno focus meno specifica su un argomento ma molto più generale perché appunto va proprio nella quotidianità nella consapevolezza dell'importanza del ruolo del consulente ringrazio Mauro Tornincasa avvocato penalista commissione 231 dell'ordine degli avvocati di Napoli ringrazio Vincenzo Procino consulente finanziario e vi do appuntamento ad una nuova puntata la prossima settimana di Salotto GT speciale economia sempre qui su GT Channel di Salotto